Sclerosi multipla, subda una patologia che sfinisce al Via da Siracusa un confronto sul lavoro in Sicilia. Ha preso in via la settimana nazionale della sclerosi multipla dal 25 maggio al 2 giugno per le oltre 140.000 persone con sclerosi multipla in Italia. Sarà una settimana densa di appuntamenti che si svolgeranno sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. E anche le 8.000 persone in Sicilia avverranno momenti di approfondimento nei diversi capologhi di provincia. Una settimana di informazione dedicata ai sintomi invisibili della patologia che in Sicilia si è aperta a Siracusa con un confronto sul difficile tema del lavoro. Un argomento scelto dalla Camera Civile di Siracusa e dalla sezione di Siracusa dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla in vista della celebrazione della giornata mondiale della sclerosi multipla che si celebra il 30 maggio. AES ha tra i suoi valori fondanti anche quello di affermare e rappresentare i diritti delle persone con sclerosi multipla affinché possano vivere una vita piena, partecipe e autonoma, ha detto il Presidente AES di Siracusa Alessandro Ricupero. Si può essere penalizzati dopo aver comunicato la propria diagnosi di sclerosi multipla sul posto di lavoro? Cosa succede se non si comunica la diagnosi? La gestione della sclerosi multipla sul posto di lavoro è spesso fonte di ansie, preoccupazioni ma anche discriminazioni e diritti negati. Il lavoro è una precondizione per la piena integrazione delle persone con disabilità e con sclerosi multipla. Ognuno di noi con le proprie mansioni abbiamo situazioni di vita differenti. Ci sono persone diritti da conoscere e da rispettare per realizzare una cultura delle pari opportunità. Siamo chiamati ad uscire dai nostri studi e a svolgere una funzione sociale anche noi come avvocati, essendo noi garanti dei diritti umani fondamentali. Grazie ad AES, ma ha detto Patrizia Dugo, Presidente della Camera Civile di Siracusa.